Il giorno dopo Kippur è un giorno del tutto speciale come Kippur è speciale, Kippur è il giorno del digiuno ma anche della gioia, della espiazione e il giorno dopo è un giorno in cui si riprende serenamente, fortificati dall'esperienza del giorno prima, una vita normale lo si fa con serenità, con gioia e anche in preparazione alla festa di Sukkot. Noi abbiamo vissuto questi giorni e abbiamo voluto viverli con passione ed entusiasmo, questo giorno siamo un po' in freno rispetto alla grande esperienza del giorno prima ma comunque queste transizioni sono importanti e dobbiamo avere appunto dei momenti di transizione per non passare bruscamente da un'esperienza all'altra e a questo sarebbe appunto questa giornata e i migliori auguri per la prossima festa di Sukkot. Grazie a tutti!